Buongiorno a tutti quanti in una nuova puntata di Radio Orwell. Cerchiamo di collegarci ad alcune delle tematiche del video precedente. In questo caso soffermiamoci su come eventualmente le persone possano farsi abbindolare. Perché una persona di fronte ad un qualcosa, ad una proposta, si può far abbindolare nel 2023 o nei prossimi anni o in quelli a venire ancora, perché questa pratica continuerà se non ci risvegliamo. Innanzitutto c'è una pratica di stordimento, spesso uno stordimento a livello di informazioni, di immagini, che possono quindi in questo caso venire sia dai social, ma una volta veniva fatto in tv con delle persone che spesso urlavano, li conosciamo bene, gli urlatori, questo è un indizio, e chi comunque grazie a queste tecniche di bassissimo marketing ha fatto vendere e ha creato allo stesso tempo una ricchezza per se stessa incredibile in quegli anni e ancora oggi forse in alcuni casi continua ad esserlo. Certo, abbiamo avuto un'esperienza, però come vi ho detto già in altre situazioni, l'essere umano, soprattutto quello italiano, ha una memoria cortissima e facilmente abbindolabile. Allora io mi chiedo, come è possibile, cosa entra nella testa di una persona che di fatto si va a fidare? Chiaramente il marketing ha un peso eccezionale in tutto questo, sono fatti degli studi proprio sociali, psicologici, per vedere anche come l'essere umano reagisce a determinate emozioni, a determinati stimoli. Ci sono, come vi ho detto, anche su Amazon, ma anche nelle librerie, tantissimi libri appunto per la motivazione che vi spinge a vendere come deve fare il venditore. Io ho seguito dei corsi, non posso dire delle aziende in cui ho lavorato, in cui appunto ti istruivano a vendere, ma non è per la bellezza del vendere, ma è per cercare di massimizzare il profitto, allo stesso tempo, mi dispiace dirlo, ma per fregare proprio voi. Perché pensate che se andate in un qualsiasi negozio di boutique, nella maggior parte dei casi, soprattutto nella grande distribuzione, chi vi vende la roba e con cui magari avete anche un pseudo-rapporto, diciamo, sociale, vi stia vendendo la cosa che veramente sta meglio a voi o non vi sta vendendo magari quello che forse piace più a voi o che voglia magari liberarsi dal negozio, o che magari ha un margine e un costo maggiore. Non ve lo siete davvero mai chiesto? Oppure forse lo sapete, ma facciamo tutti finta di saperlo o di magari ignorarlo. Perché è così. Se io vado in un negozio e non sono il titolare, perché una volta, sapete, in Italia c'era, soprattutto in Italia, c'era questa conduzione familiare che il capitalismo ha distrutto completamente, dove magari appunto c'era un rapporto sociale più fraterno, più profondo, dove si instaurava nel corso dei mesi, degli anni, di decenni, di rapporti talmente importanti che quando comunque il venditore vendeva, chiaramente doveva sempre avere un guadagno e un interesse, ma molto spesso si aveva anche un rapporto talmente profondo che si davano dei consigli forse molto veritieri. Ma se voi andate in un supermercato, se voi andate nella grande distribuzione, se voi andate in qualsiasi sistema, come anche Amazon, ragazzi, pensate che quello che vi vendono sia veramente così, che non ci siano pratiche di marketing. Io ho venduto su Amazon, io ho venduto su eBay, ho venduto su altri market, ragazzi, se non raggirate un pochino il sistema, non potete vendere se voi scrivete semplicemente quello che l'oggetto è. Dovete dare qualcosa di più, perché il sistema purtroppo vi spinge a farlo. Io mi sono tirato indietro da questa situazione perché mi faceva schifo e mi fa schifo tutto questo sistema per vendere qualcosa di cui molto spesso la gente non ha bisogno solo per compiacere i propri desideri derivanti da una società che marcia la base. Quindi di fatto un gatto che si morde la coda, o meglio un topo che sta morendo. Ma io voglio chiedervi ancora, come è possibile che se noi vediamo magari il corso, tal dettaglio dove X signori o persone ipotetiche hanno fatto soldi, o sicuramente farete soldi, o sicuramente investendo di qua o investendo di là farete soldi. Non è un sistema Ponzi, ma di fatto lo è. Non è una truffa, ma di fatto lo è. Eppure le persone continuano a caderci. Lo sapete perché? Perché c'è una parte positiva, che è la speranza e la facilità. Perché da una parte c'è la grande speranza, come quella delle Gratte Vinci o delle Narotto. Io vado lì con una speranza, quindi la speranza è l'ultima a morire ed è anche un elemento positivo della persona, perché senza la speranza molte cose non sarebbero potute succedere anche in passato ed oggi. Ma dall'altra parte c'è qualcosa, cioè in non pensare a quanto statisticamente sia quasi impossibile vincere. C'è il fatto che anche se me lo scrivono davanti, anche se mi dicono sì, non è così facile, perché spesso lo devono dire. Noi non ci facciamo caso. Le pratiche di marketing sono fatte apposta perché la stessa persona ci possa dire che noi siamo belli, ma che al suo tempo sì, costa un po', però è veramente bello, però le sta veramente bene. Però sicuramente con questo la riconosceranno, però sicuramente con questo corso farete soldi. Quindi è un piccolo investimento, ma che poi vi frutterà talmente tanti soldi che non ci penserete più. Beh, quel piccolo investimento diventa e sembra qualcosa di veramente nullo, inesistente. In realtà è proprio grazie a quel piccolo investimento che loro faranno i soldi e voi probabilmente, nella maggior parte dei casi, nel 99%, rimarrete uguali a prima, se non più poveri di prima. Come vi dicevo, tipo in grattia e vinci, c'è più probabilità di rimarere della stessa ricchezza, non andando a fare, diciamo, scommesse, non andando a prendere la grattia e vinci, non giocando nelle macchinette, che andando a giocare nelle macchinette. Cioè dovete saperlo questo, ma forse lo sappiamo tutti, però c'è sempre questa cosa della speranza su cui il marketing gioca sempre, non spesso, giocano sempre. Poi naturalmente ci sono informazioni a livello visivo, che ormai ad oggigiorno, anche con l'intelligenza artificiale, ci stanno devastando completamente la testa, ormai volendo ci possono mettere tranquillamente una macchina nel giro di decenni, nemmeno che ci fotte completamente il cervello su tutto e noi non saremo più in grado di poter prendere atto di quello che ci sta intorno. Quindi perché farlo? Perché siamo animali, da una parte per fortuna, da una parte per sfortuna, perché la nostra indole animalesca ci porta ad essere deboli su questi lati se non siamo fortemente allenati. E vi posso dire che anche se io sono molto allenato su questo, spesso e volentieri, non è che ci cado ma mi faccio ipnotizzare, poi magari ci ripenso, perché sono una mente che si ferma di molto, molto spesso a razionalizzare e a pensare e il 99% magari delle voglie non mi portano ad andare avanti. Sono una mente che cerca di scoprire, quindi molte persone cercano magari di dire sì, ma perché? Proviamo, proviamo, va bene. Però ricordatevi sempre una cosa ed è una cosa importante su cui io stesso ho passato tanto tempo e quindi l'ho fatto sulla mia pelle, che il tempo è la forma di denaro più importante. Spesso e volentieri si dice sì, ma è un investimento, il corso, faccio un esempio, costa 100 euro, poi è tutto tempo che dovete dedicarci. Ok? Ragazzi, ricordatevi sempre che il tempo è la variabile su cui si gioca di più e il tempo è la variabile che di fatto è più importante, perché il nostro tempo su questa terra è limitato. Il denaro si può fare, non si può fare, ma il nostro tempo ha un valore. Se il corso vale 100, ma per raggiungere quel risultato lì mi ci vogliono due anni e due anni di tempo di lavoro, innanzitutto chi mi mantiene per quei due anni? Ma quanto valgono quei due anni che io non ho passato? Chiaro, se la prospettiva è avere un 99% di successo, posso anche rischiare quell'1%, ma se andiamo a vedere nei fatti di tutte le cose che io ho provato, perché sono comunque una persona testarda, nel mondo, da quando io sono nel mondo online, veramente poche, veramente poche persone, il che non vuol dire che voi non possiate vincere a nena lotto, che voi non possiate diventare famosi, che voi non avevate magari quell'X Factor in più, assolutamente no, ed è per questo che molte persone, poche persone, però molte persone nel mondo, riescono a raggiungere risultati. Però, prima di partire, ragionate sempre matematicamente su quelli che possono essere le vostre probabilità di successo. E nel momento in cui siete di fronte a questo, non pensate che ci siano benefattori. Ragazzi, non c'è nessuno che fa un benefattore così, tanto per, ok? Soprattutto quel benefattore che vi dice sì, ma prendi questo corso, sì, ma c'è da fare solo questo piccolo step, ma non ti preoccupare, migliaia di persone lo stanno facendo, migliaia di persone si sono arricchite da questo. Bene, questo è proprio il momento in cui dovete arricchire le orecchie e prendere un attimo le distanze. Poi magari lo fate lo stesso, però cercate di ragionare. Siamo nel 2023 e se non facciamo questo piccolo step, siamo completamente fottuti, non c'è più via di ritorno. Siamo all'interno della Matrix che tanto viene decantata. Siamo all'interno di questo. Nel momento in cui ne siamo avvolti, adesso forse ci rimane ancora l'1% per salvarci, ma nel momento in cui non ne usciamo più, siamo all'interno di un ciclone e quando siamo nell'occhio, beh, è un problema.